e come sempre siamo qui ogni giorno prontissimi con una nuova ricetta anche oggi il protagonista della nostra puntata è lo chef tiziano paolini del ristorante prospettive di francavilla al mare di nuovo buongiorno allora la ricetta di oggi pochissimi ingredienti un piatto che uno due sì diciamo fondamentali due principe del piatto è la principessa la verza viola la lavoreremo in quattro tempi quindi in quattro cotture in quattro consistenze diverse un piatto che abbiamo in carta nel nostro degustazione vegano quindi è un piatto vegano vegetariano quindi non ci sono contaminazioni potrebbe anche senza glutine perché la farina di riso infatti per dire che anche senza glutine perché faremo una farina di riso per friggere una parte diversa quindi possiamo dire che in questo piatto andremo un po ad esplorare le tecniche di cottura che ci danno un risultato differente quindi vi andremo anche un po a dimostrare come una tecnica di cottura particolare può praticamente completamente cambiare un prodotto certo in questo caso una verza viola che normalmente non gli diamo due lire insomma tra l'altro questo prodotto umile veramente semplicissimo noi attraverso la cottura invece quindi oggi faremo un percorso un po diverso che però insomma scopriremo aspetti molto interessanti della cucina esploreremo altri ambiti molto sempre come sai la mia cucina è molto colorata in questo caso sarà una cucina come le tue divise sì sempre grazie è un piatto tono su tono quindi cercheremo di mantenere sempre lo stesso colore con delle tecniche di cottura e quindi gli ingredienti sono semplici una verza viola della farina di riso aceto vino bianco aceto di mele e vino bianco dell'acqua gassata fredda benissimo allora spiegaci un po queste quattro consistenze certo allora la prima è la più semplice con una mandolina andiamo a fare un'insalatina quindi tagliamo un trancio di verza la passiamo a mandolina la più sottile possibile la sciacquiamo quattro cinque volte per comunque togliere quel sapore un po forte della verza e poi la manteniamo in acqua e ghiaccio ok per mantenere il colore per mantenere il colore e la croccantezza ok quindi la facciamo cinque minuti poi la dobbiamo comunque rendere piacevole al palato la togliamo dall'acqua e ghiaccio una ciotola vino bianco aceto mescoliamo un po d'olio un po di sale e la chiudiamo con una pellicola li facciamo partire una fermentazione una decina di minuti mentre o anche un quarto ora c'è mentre facciamo le altre preparazioni questo è una prima trance poi la seconda tranche che bisognerebbe farla prima ovviamente se sia a tempo se no possiamo pure non inserirla nel piatto a casa è una polvere di verza viola quindi dobbiamo prendere le foglie di verza le sbollentiamo in acqua shock termico con acqua e ghiaccio così manteniamo il colore e le passiamo in forno come la ricetta scorsa dei pomodori ok al forno 60 gradi per tre però ti devo fare una domanda perché dobbiamo sbollentarla prima la foglie di verza perché nei pomodori non lo facciamo no perché i pomodori contengono molta acqua ok e quindi ok perfetto invece la verza non ce l'ha quindi dobbiamo dargliela noi dobbiamo dargliela perché sennò non riusciamo a farla essiccare bene e poi frullarla quindi tende ad essere più un foglio e non una polvere perfetto tutto chiara questo è sì questo è una diciamo una un problema che ho avuto io perché all'inizio pure l'ho presa e l'ho messa direttamente in più non riusciamo ad acquistare il colore su originale mettendolo da diciamo da crudo direttamente al forno perdiamo molto colore invece sbollentata shock termico manteniamo più colore possibile perfetto e questa è la seconda la seconda che facciamo una volta seccata all'incirca sempre 3 barra 4 ore l'andiamo a polverizzare facciamo una polvere e la mettiamo da parte un altro spicchio la inseriamo in una busta se abbiamo sottovuoto per cottura un po d'olio un po di sale la mettiamo in acqua bollente per mezz'ora se non abbiamo la questo noi lo facciamo al ristorante per mantenere sempre più possibile i valori nutrizionali del prodotto se non abbiamo una busta sottovuoto la immergiamo normalmente né in acqua di cottura senza nulla e con quell'acqua ovviamente una volta cotta la sempre mettiamo in acqua e ghiaccio per mantenere il colore l'operazione che facciamo sempre l'andiamo a frullare con quell'acqua di cottura quindi usciamo una specie di purea faremo una crema sì una crema con la versa ed è la terza consistenza e la quarta la quarta che diciamo che poi è il protagonista e questa versa sempre cotta una parte la frulliamo come ho detto prima una parte la lasciamo per poi passarla in questa pastella e friggerla e friggerla e come sai benissimo che io con la tempura io un debole per la frittura e quindi c'è anche la parte del fritto allora facciamo così visto che le prime tre parti le abbiamo dovute anticipare un po' per tempi televisivi ci fai vedere quest'ultimo passaggio che è quello più interessante certo Il nostro canale è www.mesmerism.info Ed eccoli qui, le nostre quattro variazioni, possiamo dire, chiamarle variazioni? Sì, da un prodotto ne abbiamo realizzate quattro Che bello, veramente, guarda, sembra quasi magia Con quattro colori diversi, quattro tonalità diverse Con tre ingredienti, anzi quattro, perché abbiamo, vabbè, partiamo comunque dalla verza viola Sì, la principale La farina di riso e poi abbiamo vino bianco, se non sbaglio E l'aceto bianco, l'aceto di mele per marinare Ma veramente, quasi niente praticamente Molta lavorazione in questo caso Molta lavorazione, molto tecnica E fantasia Però è bello, perché comunque dà un prodotto, anche se vogliamo così, non tanto invitante Sì Poco interessante, ecco, mettiamola così Abbiamo tirato fuori una cosa incredibile Beh, assaggiamolo prima e poi lo vediamo Bravo, Tiziano Grazie Anche per la buona volontà, insomma, per l'idea Beh, sì, c'è tanto lavoro, tanto studio Per comunque tante tecniche Non banali Eh sì, lo stavamo dicendo proprio prima Che veramente in cucina è importante sperimentare Perché questo consente anche un po' di farci capire fino a che punto possiamo arrivare Anche a casa possiamo farlo, perché no? Questo piatto è semplicissimo Poi devo avere un po' di pazienza magari per sistemare, per pulire, se combiniamo qualcosa di un po' Anche, anche, anche Allora, dai, infiattiamo, sono curiosa Facile, facile Adagiamo la nostra polvere Ma quanto è bella, che bel colore Questo perché ti dicevo Un viola super fashion Sì Ok Poi Mettiamo Tutto naturale, senza coloranti Incredibile Verza Ok L'insalatina di verza Che abbiamo fatto leggermente fermentare Sì Giusto? Ecco, mi ricordi la fermentazione che abbiamo aggiunto Aceto e vino, giusto? Aceto e vino Un po' di olio e un po' di sale alla fine Per dare comunque un po' di sapore Ok Ma che bello questo piatto, Tiziano Manca un elemento però Eccola Sì La nostra crema possiamo chiamarla La nostra crema Ok E infine Mettiamo sempre un germolino Di aglio, giusto? Questo di aglio, sì Sì Che a me piacciono tantissimo E ci stanno proprio bene Vanno proprio assaporati Jennifer, ci siamo Devo dire che questo è un piatto Dove c'è tanta tecnica Forse è tutta tecnica Però Voi sapete Io tengo molto a fare piatti Che sono rifacibili a casa E questo devo dire Che alla fine Può essere rifatto a casa Perché non ha bisogno Di strumenti particolari Ovviamente non è un piatto veloce Non è un piatto Però ci tenevo particolarmente a parlarne Perché veramente ne valse la pena Sì, diciamo un piatto con tanta tecnica Però Per chi ama la cucina E a casa comunque vuole fare un piatto diverso Con questo prodotto Cioè dimostra come un piatto Può essere anche molto economico Perché fondamentalmente questo è veramente economico Sì C'è solo tempo Cioè una verza Una verza E riusciamo a fare una cosa del genere Quindi Questo è quanto Veramente E questa è la cosa che tu mi piace Semplice Tra virgolette Perché comunque ripeto C'è tanta tecnica Tanta tecnica Però E tecniche che a casa Si possono rifare senza problemi Non abbiamo usato strumenti strani Solo giuste tecniche di cottura E di mantenimento del prodotto Bello, colorato Veramente non manca nulla Complimenti al nostro chef Tiziano Napoli Troppo gentile E grazie a voi Per essere stati insieme a noi anche oggi L'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano A domani A domani I legumi è un alimento d'eccellenza Hanno alto contenuto sia delle proteine Che di carboidrati In più contengono la fibra insolubile Che regola livelli di glucosio E di colesterolo nel nostro organismo Al prossimo Day Grazie a tutti